salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi siamo alla pista martens club per la prima gara di campionato buggy, dal momento in cui partate si sperava la vostra qualifica personale vedendo i piloti che stanno girando per la prima qualifica abbiamo preso il numero 10 purtroppo la prima qualifica l'ho saltata perché sono arrivato dopo che c'ho un impegno e quindi prima qualifica saltata adesso abbiamo preso il numero e ora facciamo seconda e terza qualifica e poi vediamo come ci posizioniamo per la gara 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, i 4, 1,iej , a Ihnen mi manca Giordano ecco ragazzi tra tutti i transitati aspettiamo il primo risposto Artese 52 e 2 Figliaggi 51 e 9 Fucito 48 e 9 Montano 56 e 7 Diletti 59 e 4 poi abbiamo Gennari 51 e 1 Emirco Meloni 46 e 7 Valentinetti 66 e 6 manca Giordano che sta arrivando in questo momento e chiude il primo giro in 51 e 4 secondo passaggio di Figliaggi 52 e 2 Montano 52 e 2 Gennari Meloni giro record 46 e 7 qua abbiamo diretti 52 e 8 problemi per gran allora ragazzi prima qualifica andata sono andato molto tranquillo anche perché cioè sono appena arrivato sono andato subito così de botto quindi con calma e ci rilasciamo la seconda qualifica e niente ragazzi comunque pure essendo andato tranquillo secondi ora abbiamo la terza batteria questa è la seconda meno 10 9 8 7 6 5 4 ok partenza regolare prime curve prime curve i piloti stanno arrivando al panettone partenza regolarissima perfetta vediamo subito Gennari che dalla quarta casella prende la prima posizione seguito da Alessio Scala terzo grandi Giulio primo passaggio vediamo Gennari dalla sesta casella quarto quarto di Letti dalla ottava posizione nono Montano poi Fucito grandi Valentinetti Artese Giordano no vai Scala prima posizione pilota di Cervete di Cerenova no Cervete no no secondo passaggio vediamo il distacco un secondo e uno 47 e nove per Scala un secondo e uno il distacco una guida pulita se tamponate firmatevi e ridate la posizione non fatevi infamoni che scappate via classifica scala Gennari si viaggi grandi sicilio di Letti Montano Valentinetti sodile Giordano Artese attenzione recupero alla dieci recupero veloce terzo terzo passaggio sempre scala il distacco era un secondo e uno vediamo quest'altro terzo passaggio un secondo e nove terzo passaggio terzo passaggio terzo passaggio scambio 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 al vertice spunta Gennari in prima posizione che ha girato un giro record di 46 e 0 Scala a due secondi e quattro in seconda posizione vediamo la terza posizione lotta tra grandi che prende il terzo posto ma Fucido gli risponde ma però Grandi viene duro che prende la terza posizione quarto Fucido poi abbiamo Montano in quinta posizione sesto Filiaggi Montano con la macchina sistemata dal Filiaggi e se faceva i suoi quando sono passati i quattro minuti quinto passaggio giro record di Gennari che stenta lo strappo infatti prende tre secondi di vantaggio su Scala e 16 secondi su Fucido quarto Grandi Grandi ha ripreso la terza posizione altro giro record di Gennari in 46 e 0 e ha migliorato anche Scala che ha girato in 46 e 6 ecco Gennari sesto passaggio vediamo il dispacco tre secondi e due altri due decimi guadagnati da Gennari terza posizione in solitaria non tanto per Fucido un minuto e mezzo termine decimo giro per Gennari tre secondi e uno il vantaggio su Scala Grandi terzo 15 secondi in distacco a due secondi Fucido in quarta posizione dal terzo vediamo Solitario ah si Scala è ripassato davanti con Gennari di nuovo a ruota bellissima questa finale scambio di posizioni in vertice tra il terzo ah errore di Grandi ne approfitta Pigliaggi lascia passare Fucido grazie Pigliaggi anche la macchina verda appena arriva Pigliaggi che è in quarta posizione allora il distacco Scala prima posizione con quattro decimi di vantaggio su Gennari se me li sono persi non li vedo più ecco lì in lotta ruota contro ruota al panettone punta Gennari davanti errorino non ne approfitta Scala eccolo Cavadatti al cammello Gennari e Scala a ruota ah sbandata di Scala in uscita Manciatona di siamo all'ultimo giro vi hai dato sbagliare un secondo e sette il distacco poi andiamo a vedere il terzo e il quarto che era fucito e grandi in quinta posizione il figliaggi riuscito terzo stoppa la 1 stoppa la 2 vai stoppa la 10 scusate la 1 e la 10 sono stoppate stoppa la 2 8 stoppa la 6 stoppa la 3 stoppa la 4 è di te grande porco di grande porco di bella ci siamo scambiati il sacche le volte le posizioni ragazzi è appena finita gara 1 e primi 13 giri in 10 26 meno 10 9 8 7 6 5 4 non vediamo l'ora di vedere i video di Mirko Melodi del 2021 che ancora non l'abbiamo viste il bianco e nero grazie mario allora vediamo chi spunta su rettilino e di nuovo gennari che dalla quarta casella prende la prima posizione macchina grazie secondo filiaggi secondo passaggio gennari 49.5 con 7 secondi di vantaggio su filiaggi che il caffè alla Sambuca gli ha fatto bene la presa per l'endovena attenzione raccoglietta da 10 di qua la macchina di qua di qua di qua ok guarda dietro guarda dietro se c'è qualcosa che ok allora gennari conduce con 6 secondi di vantaggio su filiaggi e 8 su Alessio Scala filiaggi ha guadagnato un secondo e anche Scala un secondo su gennari terza posizione abbiamo detto Scala, quarto Grandi numero 1 miglior giro per Scala in 47.3 che ha guadagnato 2 secondi su filiaggi che ha guadagnato 2 secondi su filiaggi poi ci abbiamo Grandi in quarta posizione a 17 secondi dal litere poi abbiamo in quinta posizione Mariotto Montano partenza a raggio attenzione recupero della 10 attenzione problemi per figlio peccato il dispacco Gennari Scala dopo il quinto passaggio su 3 secondi poi abbiamo quarta posizione Grandi quinto Giordano sesto Montano settimo Diletti ottavo Valentinetti non artese e decimo Fugito purtroppo fermo con un ammortizzatore rotto ripeto se trovate una molla sapete dove portarla giro record di Gennari 46.7 aumentato il distacco su Scala 4 secondi e 9 attendiamo Fugito allora distacco è sceso a 4 secondi e 7 tra Gennari e Scala certa posizione per Grandi a 13.4 Figliaggi in quarta seguo in Cernano Diletti Montano altese Valentinetti uscito 3 minuti errore per Grandi in fondo al dritto vediamo se ne approfitta Figliaggi segno attenzione Montano ai Grandi dietro perfetto a 2 minuti e 30 dal termine la situazione è Gennari con 2 secondi e 7 di vantaggio su Scala terzo Grandi a 13 e Figliaggi a 17 segue Giordano a 37 tutti gli altri in giro quinta posizione per Giordano a pieni giri con i primi Gennari nuovo giro record 46.5 vediamo il distacco è salito a 7 secondi e 8 ultimo minuto ultimo minuto ecco Figliaggi che sta arrivando al coronaventraggio in terza posizione vediamo quanto è il distacco 30 secondi 6 secondi anzi 5 secondi tra Figliaggi e Grandi 20 secondi al termine 10 secondi 6 secondi 8 ultimo giro vi ho dato sbagliare per i primi due ah errore di Grandi Cassio 1000 errore di Grandi ne approfitta Figliaggi che prende il podio in questa gara 2 stop alla 6 stop alla 1 stop alla 7 stop alla 9 stop alla 8 stop alla 2 ragazzi ragazzi allora gara 2 fatto primo e gara 3 invece ho chiuso in terza posizione e alla fine ragazzi classifica generale primo posto veramente veramente soddisfatto prima gara qua vittoria non poteva andare meglio io ragazzi come sempre spero che questo video vi sia piaciuto vi lascio vedere intanto che stanno facendo un po' di giri liberi in pista adesso ne faccio un'altra scarica pure io ragazzi anche per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao